Ignazio Manca è il 57enne che è stato trovato morto in Sardegna. Al momento si sta indagando per omicidio. Sul corpo dell'uomo è stata disposta l'autopsia. L'uomo è stato trovato morto nel cortile interno di un'abitazione nel centro di Santa Giusta, in provincia di Oristano. A chiamare i soccorsi è stato il fratello Carmine che abita al piano superiore dell'edificio. Grazie per la visione!